Stati Uniti e Unione Europea hanno espresso la loro contrarietà riguardo la decisione russa di erigere recensioni lungo il confine con la Georgia nel territorio appartenente all'ossezza del sud. L'annuncio arriva dopo la richiesta di rimozione delle stesse da parte della Nato, che ha anche chiesto a Mosca il riconoscimento dell'ossezza del sud e dell'Abkhazia.